Buonasera, benvenuti a 8.30, buonasera, bentornato Massimo Cacciari, filosofo, buonasera, bentornato Marco da Milano, direttore dell'Espresso, buonasera, bentornato Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano e buonasera, bentornato Claudio Cerasa, direttore del Foglio. Avete sentito, dovremo aspettare ancora un po' per conoscere i risultati della votazione dei 5 Stelle online sulla piattaforma russo, che però siccome si è un po' inceppata sin dalle prime ore del mattino, noi eravamo pronti per commentare l'esito, ma al di là di questo il corto circuito politico c'è già, subito dopo la pubblicità. Professor Cacciari, ha fatto bene il Movimento 5 Stelle a chiedere il fatto di un'esito? il voto dei propri iscritti, voto online tramite la piattaforma russo, per sapere se sono a favore o contro il processo a Salvini sul caso della nave Diciotti e che lei è in grado di pensare all'esito di questa votazione online? Bene e male, fa parte del loro costume, poi è un modo anche magari elegante di tirarsi fuori dall'imbarazzo. È chiaro che se ragioniamo in termini generali, pensare che una questione di giustizia possa essere decisa attraverso assemblee o voti popolari di questo genere è folle, ma è la cultura, è l'aria che tira. E' la democrazia diretta? Sì, ma la democrazia diretta come tutti sanno non esiste, non è mai esistita. Esiste un modo per massacrare la democrazia rappresentativa e la democrazia diretta è il modo più spiccio per farlo. Marco Damilano, oggi la piattaforma russo si è inceppata più volte costendendo i 5 Stelle ad allungare i tempi di votazione. C'è stata anche qualche contestazione, più di una contestazione per la formulazione del quesito online perché è stato giudicato confuso, ambiguo e alla fine questa consultazione rischia di essere un autogol per i 5 Stelle? Sì, anche oggi l'avevano già fatto ieri con una lettera, ma anche oggi le senatrici Nunes e Fattori per esempio hanno detto che non riuscivano a votare, hanno fatto dure critiche proprio alla piattaforma russo che di fatto è il Movimento 5 Stelle, coincide con il Movimento 5 Stelle. Cito un tweet di padre Francesco Occhetta che è il cosiddetto notista politico di Civiltà Cattolica, la rivista dei Gesuiti, quindi molto influente, ha detto si è affidato alla piattaforma russo che è la democrazia diretta, ma è un organo di partito, il potere di decidere se il legislativo può concedere al potere giudiziario il processo del potere esecutivo. Ecco, mi sembra una sintesi strepitosa di quello che sta accadendo e che è la questione più importante, cioè gli equilibri tra i poteri, poi c'è un conflitto, quello che sta accadendo in queste ore è il vero congresso del Movimento 5 Stelle, cioè si vota sulla linea di Di Maio di fare l'alleanza con Salvini, l'asse con Salvini che è stato il cuore portante di tutta l'azione del Movimento 5 Stelle da giugno a oggi. Sei d'accordo Andrea Scanzi, cioè alla fine questa votazione online è un giudizio sull'accordo che Di Maio ha voluto fare con Salvini e in ogni caso questa votazione online è un atto di trasparenza oppure ancora una volta la politica non si è voluta assumere la responsabilità di decidere. In via teorica sarebbe anche bello chiedere alla cosiddetta base cosa si deve fare, queste centomila persone hanno avuto in dono una decisione molto importante per le sorti del Movimento 5 Stelle e per le sorti del governo, io però la vedo molto male e credo di essere molto più critico sia di Cacciari che di Damilano. Secondo me la decisione del Movimento 5 Stelle è un calciare la palla in tribuna, è una decisione pilatesca, è una decisione per non decidere, è una decisione pessima anche nella formulazione del quesito che è un aspetto fondamentale perché il quesito è stato formulato in maniera tale da far votare quasi naturalmente contro l'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini e c'è anche questo paradosso patetico per cui per votare sì devi votare no e viceversa e quindi mi sembra una decisione profondamente discutibile e prossima al suicidio politico, una sorta di decisione che evidentemente è stata dettata da Tafazzi, che evidentemente è stata l'exit strategy per uscire da un imbarazzo totale che provavano Di Maio e altri e credo per quanto mi riguarda che l'unica salvezza per il Movimento 5 Stelle, o l'unica salvezza esagerato, ma la maniera migliore per uscire da questa vicenda sia nel voto della base, cioè la speranza che la base voti per il processo a Salvini come finora è sempre successo, ma non credo che capiti perché secondo me questa decisione è stata presa da Di Maio perché loro hanno in mano dei sondaggi che dicono che la base, in larga maggioranza, è favorevole a negare il processo a Salvini e quindi a salvare il governo. Sei d'accordo Claudio Cerasa e vorrei tornare un attimo ancora su questa piattaforma Russo che è di Davide Casaleggio e che ogni volta che c'è una votazione online si inceppa, perché non riescono a mettere a punto questa piattaforma informatica? Uno, ed è in ballo solo il processo a Salvini oppure anche alla leadership di Di Maio? Intanto ovviamente per Salvini la partita è molto delicata perché rischia di passare rapidamente dallo status di quello che chiamavano Trinità a quello che chiamavano immunità e quindi è più complicato per lui gestire questa fase e Salvini ha anche cambiato idea rispetto a quella che doveva essere il suo destino perché ha capito perfettamente che il rischio che quel reato fosse stato commesso era molto 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 alto, quindi forse un ministro importante del governo gli ha suggerito di non fare stupidaggini. Dopodiché Di Maio evidentemente è in grossa difficoltà, naturalmente un po' per le contraddizioni perché ricordiamo che nel febbraio del 2016 Di Maio quando Alfano, la ministra dell'interno venne indagato, disse che si deve dimettere entro 5 minuti perché un ministro dell'interno non può essere indagato e non può rappresentare le istituzioni, quindi oggi il fatto che si ricorra a uno strumento complicato e discusso e difficile come Russo fa capire evidentemente l'imbarazzo. Poi c'è però l'altra questione, perché il Movimento 5 Stelle oggi è come un arrosticino? Cioè perché viene cotto a fuoco lento? Da una parte ci sono le contraddizioni, da un'altra parte però c'è la realtà perché non è vero che l'insuccesso, almeno dei sondaggi del 5 Stelle, dipenda solo dalle contraddizioni, dipenda anche da quello che è stato fatto, dipenda anche dal fatto che la linea politica economica del 5 Stelle ha portato l'Italia in recessione. L'Italia oggi è l'unico paese dell'Eurozone in recessione, è l'unico paese dell'Ox che perde i posti di lavoro, è l'unico paese in Europa che ha raddoppiato il proprio rendimento. Ma non si può addossare tutta la colpa dei 5 Stelle? Una parte è la colpa naturalmente del primo partito che governa questo paese però poi c'è l'altra domanda che riguarda perché Russo non viene cambiato, perché Russo ha questi problemi, il foglio nel 2017, anzi nel 2018 ha fatto... Anche perché ricordiamo i parlamentari del Movimento 5 Stelle pagano 300 euro al mese a questa piattaforma Russo. E poi pagano dei soldi alla piattaforma Russo ma inoltre il contratto firmato dei parlamentari prevede l'impossibilità di agire in maniera diversa rispetto a quanto stabilito la piattaforma Russo. Pena una multa a 300.000 euro in violazione tra l'altro dell'articolo 67 della Costituzione. Ma il dato interessante è che il garante della privacy nel 2017 ha scritto nero su bianco che la piattaforma Russo potenzialmente può manipolare i risultati di un voto e lo dice il garante della privacy. Da quel momento quando è stata fatta quell'analisi a oggi non è stato fatto granché. Quindi i rischi oltre al profilo democratico che, come analizzava benissimo Cacciari, sono anche che il voto può essere potenzialmente manipolabile. Allora, professor Cacciari, le voglio chiedere una cosa e interpello il grande uomo di cultura quale lei è. Perché Beppe Grillo ieri ha ironizzato su questo quesito, sulla formulazione del quesito, no? E ha detto che siamo alla sindrome di Procuste. Ci spiega esattamente cos'è e le sembra appropriato questo paragone? La sindrome di Procuste? Io conoscevo il letto di Procuste. Eh, non so, guardi, se non lo sa lei mi viene da dire... Il letto di Procuste è una figura mitologica. È un bandito che sul letto di Procuste faceva a pezzi i suoi catturati. E dopodiché però c'è stato un grande eroe che l'ha sconfitto, Teseo. Ecco, la sindrome di Procuste può essere la sindrome del bandito che fa a pezzi i suoi nemici. Non so bene cosa si riferisca con la sindrome di Procuste. Quindi forse Beppe Grillo voleva dire Marco da Milano che così sono un po' votati al suicidio. Ha anche detto il comma 22, no? Chi è pazzo può chiedere di essere esonerato dalla guerra ma chi chiede di essere esonerato dalla guerra non è pazzo. Insomma, ironizzava pesantemente sul quesito, lo dice a Giandrea Scanzi, chi dice no dirà sì, chi dice sì dirà no. e una certa confusione, l'articolo 68, l'articolo 96, l'allusione al fatto che insieme a Salvini sono responsabili anche Conte, Tonitendi e Di Maio. Insomma, c'è un chiaro indirizzo di come è costruito il quesito che va in soccorso di Salvini, un soccorso giallo per Salvini. Andrea Scanzi, forse tu ci puoi dare un'interpretazione più corretta o diversa? No, no, temo che mi sopravvaluti ma sul comma 22 è riferito al romanzo di Heller e l'ha raccontato bene da Milano e cioè sei convinto di scegliere ma in realtà non scegli e quindi Grillo intendeva dire voi siete convinti di votare ma alla fine secondo me comunque vada salverete Salvini. Per quanto riguarda la sindrome di Procusto credo si riferisse, ma vado così, a intuito al fatto che non solo era un bandito, era un brigante questo Procusto ma era anche uno che quando accoglieva nella sua locanda gli avventori se erano bassi li metteva in un letto lungo e li stirava, se erano invece alti li metteva volutamente in un letto piccolo e poi gli secava le gambe. Quindi in qualche modo era una sorta di sindrome di inferiorità cioè io non accetto il talento altrui e quindi lo gambizzo. Quindi secondo quest'ottica poteva voler dire, ma è veramente una lettura estremamente psicoanalitica, che Grillo intendeva dire ai Cinque Stelle smettetevela di sentirvi inferiori nei confronti di Matteo Salvini. Può essere un'interpretazione. È stato abbastanza critico, ecco Beppe Grillo. Così siamo qui. O anche di un quesito aggiustato. O anche di un quesito... Vabbè, comunque insomma... Possiamo anche adesso dopo quattro minuti... Posso dire... Posso dire... Sì, ecco... Questa questione è una questione tutta politica e quindi a me interessa molto relativamente la fattispecie perché è chiaro che è tra virgolette una questione di diritto di giustizia e quindi di amministrazione della giustizia. È una questione tutta politica. Quindi io non avrei... Se fosse di peso da me non avrei assolutamente intentato questa faccenda nei confronti di Salvini. Salvini va affrontato e contestato e possibilmente dal mio punto di vista mandato a casa politicamente. Quando si fanno queste cose, sappiamolo, è così. Salvini, grazie a questa causa, chiamiamola, ha visto aumentare i propri consensi. Perché ormai funziona così. E' stato un errore, è stato un errore. Non lo so della magistratura, non lo so, un errore politico, quindi non c'è niente alla magistratura, ma dobbiamo ficarceli in testa. Le questioni politiche, come quelle che riguardano Salvini, Salvini ha assunto un atteggiamento politico, non possono essere oggetto di un procedimento giudiziario. Non ha senso che siano oggetto di procedimenti giudiziari decisioni politiche. Quando ciò avviene, il politico accusato ne riceve solo benefici. Professore, però mi scusi, se il Ministro in questione è sospettato di aver commesso un reato, ovviamente nell'ambito del suo ruolo, è giusto che ci sia una questione anche giudiziaria. Ma è un reato, ma una cosa... Ma scusi, 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 cerata. Una cosa è il reato che ha rubato, che ha ucciso qualcuno, eccetera. È una cosa, è una cosa squisitamente politica, gravissima a mio avviso, ma sul piano politico. Io su questo qua ho dubbio, professore. La linea politica di Salvini è una cosa scandalosa e vergognosa, secondo me. Però tenere in ostaggio una nave della Guardia Costiera, senza una motivazione che possa essere decisiva nell'ambito dell'interesse nazionale, e tenere in ostaggio, chiudendo i porti, senza averli chiusi, costituisce, come lei avrà certamente letto nelle 52 pagine del Tribunale dei Ministri di Catania, delle ragioni sufficienti per sospettare che il Ministro abbia commesso un reato. Poi, l'aggiunta per... Peggio che un reato. Il Ministro ha commesso peggio di un reato. Ma è una cosa di natura specificatamente politica. E non può essere... e criminalizzarlo, tra virgolette, per questo, significa portargli voti. Ecco, da Milano, significa portare voti al Ministro dell'Interno Salvini e alla sua Lega? Salvini si è messo nella posizione di vincere anche se perde, perché se il Senato nega l'autorizzazione a procedere si salva, come gli ha consigliato prima, ne parlava Claudio Cerasi, il Ministro Giulia Buongiorno, che è anche di fatto l'Avvocato della Lega e di Matteo Salvini. E se invece il Senato concedesse l'autorizzazione a procedere, lui farebbe tutta la campagna delle elezioni europee nella veste di vittima. Questo è chiaro. Dopodiché, in quelle 52 pagine, che io non voglio giudicare sul piano giudiziario, cioè quello non spetta a me dirlo, però è un documento, la lettura, è un documento molto interessante di chi comanda oggi in Italia, di cosa significa l'abuso di potere. C'è stata una sfilata di alti funzionari del Viminale, a partire dal capo di gabinetto di Matteo Salvini, perché Matteo Salvini non è stato interrogato dal Tribunale dei Ministri e dalla Procura di Catania, c'è scritto anche questo in quelle pagine. Ecco, alti funzionari, prefetti, capi di gabinetto, che dicevano che noi non potevamo agire finché Salvini non ci dava il via libera in un senso o nell'altro. Quindi non solo 177 persone tenute a largo di una nave della Guardia Costiera della Marina Italiana, ricordiamolo, ma tutta la politica è tenuta in ostaggio da Matteo Salvini, come si vede anche in queste ore. Il Movimento 5 Stelle è ostaggio di Matteo Salvini. Ecco, Andrea Scanzi, ricordiamo anche che avendo il Premier Conte e il Vice Premier Di Maio, detto entrambi che loro erano corresponsabili in quanto membri del Governo e che il Governo era d'accordo su questa decisione del Ministro dell'Interno Salvini, rischia di allargarsi ulteriormente questo problema. Volevo però chiederti, siccome il tuo giornale si è schierato apertamente per il sì al processo a Salvini e se vincesse il no e comunque Salvini rischia di fare tutta la campagna elettorale, come dicevano sia il Professor Cacciari che anche Marco da Milano, come vittima e quindi li porterà altro che voti? Comunque la si veda tutta sta vicenda? Ma guarda, intanto alla lista degli statisti, lo dico tra mille virgolette e 5 Stelle, Conte Di Maio c'è anche Toninelli, quindi rischiano di andare a processo tutti e tre e il paradosso massimo per i 5 Stelle sarebbe magari quello di salvare Salvini e poi trovarsi a processo tutti e tre, sarebbe proprio il capolavoro del tafazzismo. Poi sono totalmente d'accordo con Cacciari quando dice che questo è l'ennesimo assist a Matteo Salvini perché potrà fare la parte del martire, venendo ai 5 Stelle alla posizione del fatto quotidiano, sì noi abbiamo scritto, l'abbiamo ribadito, l'ha fatto Travaglio, l'ha fatto Gomez, Padellaro, lo faccio anch'io, che conoscendo la natura del Movimento 5 Stelle fosse e sia naturale votare per il processo perché semplicemente lo hanno sempre fatto, non credo che lo faranno perché insisto, secondo me la base è d'accordo con Di Maio e per questo gli hanno dato la palla, cosa succede se viene negato il processo? Secondo me succede una cosa molto semplice, succede che tutti coloro che hanno pensato sinora che i 5 Stelle fossero succubi della Lega a questo punto lo penseranno ragionveduta, io non ho mai pensato che finora avesse comandato soltanto Salvini, se uno guarda il governo Salvimaio la stragrande maggioranza dei fatti concreti li ha fatti il Movimento 5 Stelle, nel bene e nel male, solo che non lo sa nessuno, il reddito di cittadinanza l'hanno fatto loro, la riforma della giustizia l'hanno fatta loro, il decreto dignità l'hanno fatto loro eccetera eccetera eccetera, non l'hanno saputo comunicare anche perché spesso magari queste cose o non piacevano o non hanno funzionato, ma se tu salvi Salvini vai contro te stesso e dici automaticamente al Partito Democratico anzitutto che sarà l'unico che voterà per il processo, cosa che mai ha fatto ma che adesso farà per interesse, dice al Partito Democratico, dice all'informazione e dice a tutti che effettivamente il dominus attuale di questo governo è Salvini, per questo io parlo di suicidio, ma temo anche che questo struggimento interiore che ha espresso anche il fatto quotidiano attraverso molte sue firme anche nobili, in realtà l'elettorato del Movimento 5 Stelle non lo stia vivendo così tanto, io mi immaginavo una spaccatura netta, non mi sembra di vederla, poi se fra mezz'ora, un'ora, due ore, Rousseau ci dirà che ha vinto l'autorizzazione al processo sarò felice di avere sbagliato pronosti. Vediamo quello che succederà, Professor Cacciari è così che il Movimento 5 Stelle ha fatto tanto, molto più della Lega di Salvini stando al governo ma che lo hanno comunicato male e che sono comunque succubi rispetto a Salvini? Io penso che qualcosa abbiano fatto, bisognerebbe discutere analiticamente provvedimento per provvedimento, il reddito di cittadinanza vedremo se funziona, come funziona, comunque il tema del lavoro, come ho detto infinite volte, il tema del reddito sarebbe stato da affrontare in modo molto più organico, ma comunque è un problema, però ciò non muta la sostanza politica, la sostanza politica è, come sappiamo, che tra Lega e 5 Stelle vi sono proprio culturalmente, antropologicamente le differenze abissali, è una coabitazione coatta, lo si sapeva, sono stati in qualche modo costretti ambedue a formare questo governo e che è un governo a termine. Però Cacciari, scusi, il foglio pensa che invece sia in realtà un grande amore tra Salvini e Di Maio. E la coppia dell'anno dopo Ferragni e Fedez, sono i Ferragni e di Palazzo Chigi, naturalmente è vero che ci sono tantissime differenze, anche culturali, ma noi spesso tendiamo, professore, a dimenticarci di tutto ciò che li tiene insieme, la visione dell'Europa, la visione sul lavoro, la visione sull'economia, la visione anche sulle tasse, concludo il ragionamento così provo a esprimermi. Ci sono tantissime cose che tengono insieme Di Maio e Salvini, anche ragioni politiche, perché entrambi senza l'altro rischiano di trovarsi in condizioni spiacevoli, Salvini con Berlusconi e Di Maio triturato da altri leader. Ma la ragione per cui oggi, a mio parere, l'Italia si trova in grossa difficoltà economica è legata proprio ai punti di contatto, alla simmetria economica che c'è stata in questi mesi tra Salvini e Di Maio. Guardi, ci sono, guardi, facciamo un certo, sforziamoci di fare un ragionamento. Tra 5 Stelle e Lega ci sono differenze proprio strategiche. I 5 Stelle mettono insieme nella loro storia, nella loro vicenda, una componente ecologista radicale estremista che contrasta radicalmente con gli interessi fondamentali della Lega nelle sue regioni fondamentali. Metti insieme, vedi, di reddito di cittadinanza, qualcosa che poteva benissimo appartenere alla rifondazione comunista, alla sinistra radicale e metti insieme anche quelle. Metti insieme tantissimi voti che aveva preso Renzi con la retorica della rottamazione e che comunque non erano certo voti di destra e tantomeno voti leghisti. Bene, è una cosa completamente diversa dalla Lega. Ora, questa coabitazione coatta naturalmente può creare grandi sinergie, ma non dobbiamo augurarci che ciò avvenga, saremmo dei pazzi a augurarci che ciò avvenga, perché se la componente nazionalista, sovranista, di destra a destra, Lega, si mette insieme con la componente nazionale, sapete come si chiamava una volta? Guai a mettere insieme queste due componenti, dobbiamo metterci un grimaldello dentro, dobbiamo far leva su queste contraddizioni, non possiamo regalare il Movimento 5 Stelle alla peggiore destra europea, ma vogliamo scherzare. Marco da Milano, è così? Sei d'accordo col professor Cacciari? Come si fa? Perché oggi è difficile dire se il Movimento 5 Stelle è più di destra, più nazionalista, oppure più di sinistra, sempre che tutti dicono che queste categorie non esistono più, poi però a un certo punto tutti tornano a queste categorie. Sono d'accordo con Cacciari, soprattutto nella parte finale, è stato paradossale che in questi mesi l'opposizione non si sia mai preoccupata di infilarsi nelle contraddizioni del fronte avversario, come si sarebbe detto un tempo, si dovevano prendere i temi che li differenziavano e infilarsi in mezzo e cercare di separarli. Invece c'è stato un grande sforzo per unirli anche là dove non erano uniti. Due, credo il Movimento 5 Stelle, non sembri strano, è un altro aspirante alla casella del Partito della Nazione, che è una specie di concorso per cui molti hanno gareggiato negli ultimi anni. Il 32% del 2018 è un risultato importante perché nella storia intera della Repubblica il 30% l'hanno superato, l'ADC, il PC, Berlusconi e il Partito Democratico, questo già dice qualcosa. Quel 32% poteva diventare il Partito della Nazione se il Movimento 5 Stelle passava incredibilmente da partito radicale di protesta al partito di Conte e di Di Maio, il partito del doppio petto che rappresenta il governo. Attualmente è un partito che non è né di lotta né di governo, non è né Conte né di Battista, non è nulla e perde elettori sia da una parte che dall'altra. Mentre Salvini va oltre i suoi confini, i suoi confini geografici, cioè si estende al sud come si è visto in Abruzzo e in Sardegna, ideologici perché punta a fagogitare il centro ed è un altro candidato quindi a essere il pivò del sistema politico. Andrea Scanzi, quindi questi 8 mesi di governo hanno peggiorato i 5 Stelle? In termini elettorali sembra proprio di sì, ma era anche inevitabile quando tu sei una forza trasversale che raccogli i delusi tanto di sinistra quanto di destra e alla fine decidi di andare con la Lega, anche perché il PD ti ha sbattuto la porta in faccia, con questa geniale strategia dei popcorn che sta portando alla definitiva implosione del PD, è chiaro che i delusi di sinistra te li scordi e quindi automaticamente dal 32% scendi al 27-26% o probabilmente anche meno. Poi in questi 7-8 mesi secondo me hanno indovinato alcune battaglie giuste, insisto, la spazza corrotti è una riforma che magari l'avesse fatta al centro-sinistra nei vent'anni precedenti, ha fatto delle cose che non funzionano, ma insisto, l'elemento peggiore è il fatto che è stato totalmente dominato in termini mediatici e a lungo andare temo anche politici da Salvini. È chiaro che se passa l'autonomia, se passa la legittima difesa, se passa la flat tax, se passa pure il tab, allora tanto vale che i 5 Stelle dicano a Salvini, sai che c'è, governa da solo perché noi non contiamo niente. È questo il rischio del Movimento 5 Stelle, di consegnarsi interamente la Lega e sarebbe un disastro. Per i 5 Stelle mi aggiungo io anche per il Paese. Cerasa, sei d'accordo? E comunque Salvini si dice tranquillo qualunque sia l'esito di questa votazione online e Di Maio garantisce che il governo non cadrà. Sì, due elementi. Il primo è che questa visione onirica di un 5 Stelle così diverso dalla Lega non è, secondo me, basata su fatti reali per due ragioni. Pensiamo alle pensioni, pensiamo al Jobs Act, pensiamo al reddito di cittadinanza. Sono tre grandi riforme che anche la Lega ha sostenuto. Prima ancora di questo governo, la Lega ha raccolto le firme con la CGL per la quota 100, per il reddito di cittadinanza non ha raccolto le firme ma l'aveva nel programma elettorale. E lo stesso vale per le pensioni e per l'avore. E sull'immigrazione anche? Sull'immigrazione mi sembra che la posizione sia la stessa. C'è una minoranza che ha un'idea diversa, naturalmente più legata all'area di FICO, più legata anche a una sensibilità rispetto al tema dell'ONG, dell'integrazione, ma di fatto sulle questioni fondamentali, che sono le stesse che stanno mettendo oggi a rischio la credibilità italiana, c'è simmetria perfetta. Dopodiché, politicamente, Salvini è stato bravissimo nel trasformare questo caso suo, questo suo processo, in un referendum su se stesso. E il tema politico, secondo me, anche dei prossimi mesi è, ma Salvini riuscirà a fare scouting tra i 5 Stelle per poter immaginare un domani una maggioranza alternativa a quella attuale? Questa è la grande partita che sta giocando Salvini e credo che nel gruppo parlamentare del 5 Stelle questo problema esista ed è molto forte. È d'accordo, Professor Cacciari, e se Salvini riuscisse a prendere un po' di parlamentari da Forza Italia, un po' dal Movimento 5 Stelle? Forza Italia quanti ne vuole? Adesso bisognerà vedere, ma dal Movimento 5 Stelle proprio escluderei completamente che possa fare scouting. Ma è vero che su tante questioni 5 Stelle diciamo che sono della stessa opinione della Lega, a cominciare dall'immigrazione, salvo una piccola minoranza. No, piccola minoranza, no. Adesso tra l'altro sarà interessante vedere anche i risultati di questo sondaggio, di questa cosa. Ma credo anch'io che finirà con il, anche per i trucchi che sono stati prima brillantemente illustrati, finirà col passare il non luogo a procedere. Tuttavia sarà interessante anche vedere le percentuali. Io credo che sia un elemento che ancora divide profondamente i 5 Stelle. Tutti quelli che ho incontrato nel Movimento 5 Stelle erano dagli schifati totali ai molto critici nei confronti del modo in cui Salvini ha condotto le operazioni sulla famosa nave. Quindi non è così. Le differenze ci sono, sono differenze storiche, sono differenze profonde. Grillo non ha niente a che fare con la cultura di destra, eccetera, eccetera. Dopodiché certo c'è un denominatore comune che si sta sempre più rafforzando, un denominatore comune vagamente populista, i 5 Stelle non sono sovranisti come la Lega, ma certamente mano a mano, piano piano, vedi il discorso di Conte anche a Strasburgo, a Bruxelles, dove era, eccetera. C'è un avvicinamento, ma è esattamente quello che io temo, è esattamente quello che io temo e che qualunque persona che voglia bene a questo Paese deve temere, perché il meccanismo che tende in Europa oggi a coordinare forze, diciamole così, proprio di destra o meglio, diciamo, nazionalista, sovranista, addirittura xenofobe, eccetera, eccetera, con movimenti sociali genericamente intesi, se questo grumo si forma, è un disastro, è un disastro per l'Europa, è un disastro per l'Italia, quindi dobbiamo fare di tutto per dividerli, non dire ah siete insieme, che bello siete insieme, no siete divisi, bisogna fare di tutto perché capiscano di essere divisi. Ma mi sembra talmente evidente il ragionamento per uno che ci tiene politicamente a salvare il salvabile di questa democrazia in Italia e in Europa. E' anche vero che, insomma, il potere è un collante fortissimo, professor Cacciari, quindi si ha un po' l'impressione che il Movimento 5 Stelle non ha nessuna voglia né di non essere più al potere. Di Maio, ma non è evidente anche le differenze all'interno del suo gruppo dirigente, non mi sembra che ne siano così da dare per scontato che è un gruppo monolitico, a parte il fatto che mai nessun partito è stato, ha avuto un gruppo dirigente monolitico, ma non è così. Diciamo che i dissidenti si sentono un po' poco, ecco, mettiamola così. Ci sono molti valori negoziabili, diciamo, sia nel Movimento 5 Stelle che nella Lega, questi valori negoziabili avvicinano tantissimo più di quello che sembra Salvini e Di Maio. Va bene, io vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché parlavamo di governo, unità del governo, eccetera, eccetera, ma quello che sicuramente manca a questo esecutivo è una politica estera coerente. Ce lo spiega bene Pagliaro, pochi secondi di pubblicità. Il rischio di frammentazione dell'Europa e le conseguenze dovute al cambiamento climatico sono le due minacce principali segnalate per il 2019 dai 130 esperti consultati dall'ISPI nell'ambito del rapporto annuale sulla politica estera presentato oggi. Secondo gli interpellati attivi nel mondo della ricerca, del giornalismo, delle istituzioni e delle imprese, si dissolveranno invece alcuni incubi del nostro recente passato, come il terrorismo islamico. Sul piano interno i timori più diffusi riguardano la crisi economica, intesa come somma di bassa crescita e alto debito pubblico. È opinione diffusa che dallo scontro con l'Unione Europea il nostro Paese possa ricavare più danni che vantaggi. Osserva il presidente dell'ISPI, Giampiero Massolo, che il saldo fra oneri e opportunità dell'appartenenza all'Unione e del rispetto delle regole comuni per l'Italia rimane positivo, mentre i costi dell'isolamento sarebbero altissimi. Agli esperti è stato chiesto quale sia stata la crisi più sottostimata del 2018. Al primo posto viene citato il conflitto tra Russia e Ucraina, seguito da quello in Yemen, dalla deriva autoritaria in Turchia, dagli effetti della Brexit e dalle nuove sanzioni americane all'Iran. Per la prima volta dal 2014 non raggiunge la sufficienza il voto dato alla politica estera italiana. Come spiegano Alessandro Colombo e Paolo Magri, che hanno curato il rapporto quest'anno dedicato alla crisi dell'ordine liberale, nelle sue relazioni internazionali, l'Italia vive in un limbo, sospesa tra atlantismo ed europeismo, incerta tra Trump e Putin, convinta che il nostro avversario in Libia sia la Francia, mentre invece sauditi, emirati ed egiziani dalla parte di Haftar, Turchia e Qatar, da quella di Al-Sarraj, hanno più potere di influenzare gli avvenimenti di quanto ne abbiano Roma e Parigi. Professore Cacciari, Di Maio e Di Battista hanno sostenuto la frangia più estremista dei gilet gialli francesi, golpisti, antisemiti, sta venendo fuori di tutto di più. Di Maio ha cercato di fare marcia indietro. Sono stati ingenui o che cos'altro? Penso frutto di sprovedutezza, di ingenuità, di non conoscenza, di mali consigli. Non conveniva certo a loro, quelle frequentazioni non convenivano certo, se avessero saputo da chi andavano probabilmente non si sarebbero andati, ma al di là di questo, rispetto alla nota di Pagliaro, è un'immagine del disordine globale in cui viviamo. Noi siamo da 25 anni ormai all'interno di un disordine globale, non di un ordine globale. Collato quello della guerra fredda, se ne cerca faticosamente e finora inutilmente uno nuovo, un nuovo diritto, un nuovo diritto internazionale, eccetera, eccetera. Qui non è una situazione italiana questa, una debolezza della politica estera italiana, fosse così, è assenza di politica estera. Guardi il Medio Oriente, guardi la confusione delle alleanze, chi lotta contro chi, quello è mio amico ma nello stesso tempo è il mio amico da un'altra parte, eccetera, eccetera. Cioè è una situazione di enorme confusione e allora prima di gettare un'altra volta la croce sui nostri poverelli, che siano i 5 stelle, che siano la Lega, che siano anche un altro, cerchiamo di riflettere sull'Europa visto che saranno tra breve le elezioni anche europee, cerchiamo di ragionare, cerchiamo di creare una governance europea in grado a quel livello di fare un minimo, uno straccio di serie a politica estera, perché la politica estera non c'è stata in Europa, non è che c'è stata in Italia. Cosa ha fatto l'Europa in Ucraina? Cosa ha fatto l'Europa in Medio Oriente? L'Italia ha scelto di stare da un'altra parte. E va bene, in Venezuela si è espressi in Venezuela, ma l'Europa è stata assente in Medio Oriente, ma l'Europa è stata assente in Ucraina, ma l'Europa ha fatto disastri ovunque, ma dai, per carità di Dio, col Venezuela, forse quello del Venezuela è il nostro problema di politica estera. No, sono molti di più e ci torneremo sicuramente molto presto, anche perché le elezioni europee sono collegate, però io adesso ho il problema di chiudere, quindi io ringrazio i miei ospiti, grazie professor Cacciari, grazie Marco da Milano, grazie Andrea Scansi, grazie Claudio Cerasa, grazie ispettatori, vi lascio alla serie televisiva Grey's Anatomy e noi come sempre ci vediamo domani notte e mezzo. Arrivederci.